Sei soddisfatto sino qui? Ah no, abbiamo sbagliato le bombe, quindi... Stiamo in strada per mirarlo. Vedete come è asciutto? Sì, sì. L'avete usato? Onore a voi che avete provato a usare una strategia anche quella. A volte... A volte no, però... Onore davvero a Piosa. A C-Racing, a Grun...